Allora, infine ma non ultimo, conclude questa prima delle due serate in cui conosciamo e sentiamo l'ultima parola appunto dei capi delle liste nazionali con Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, personaggio ormai noto alle cronache nazionali, imitato da Crozza, che però è il leader, parlandone seriamente adesso, di una lista che è quella che forse, forse potrebbe anche essere la sorpresa di queste elezioni, ma in un modo o nell'altro. Allora, innanzitutto, quando ha pensato di scendere in campo e perché per l'Europea? Guardi, in verità ho pensato di scendere in campo dopo una chiacchierata fatta una sera con i miei figli, dove i miei figli mi chiedevano di andare a guardare le aziende che io ho all'estero e mi chiedevano in maniera molto chiara di poter emigrare, andarsene, cioè mi dicevano in maniera molto schietta che questa nazione, secondo loro, specialmente il più grande che ha due figli, piccoli, diceva qui non c'è futuro e sinceramente io quella sera ho capito che c'era qualcosa in generale che non andava, perché mi rendevo conto, mi sono sempre reso conto che questa era una sensazione che tanti italiani hanno. Tanti genitori italiani ormai accettano passivamente che il figlio sia un migrante. Cioè noi facciamo tante storie su chi emigra dall'Africa e poi l'unica differenza tra noi, i genitori africani, è che i nostri figli se ne vanno con il timbro sul passaporto, con il visto, e che prendono un aereo anziché un barcone. Ma poi di fatto se ne vanno, 120 mila italiani l'anno emigrano in altri stati dove vanno a lavorare laureati, persone anche capaci, importanti, medici, ingegneri. E allora mi sono reso conto che c'era qualcosa che non andava. Ho fatto un giro con tutti i politici dalla Meloni a Tajani, passando attraverso il PD e non trascurando Calenda e Renzi e mi sono accorto che spazio per me non ce n'era, perché le loro idee, i loro modi, le loro maniere erano completamente diverse. Cioè il giro l'ha fatto per candidarsi con uno di questi? Ho fatto un... Beh, guardi, io sono sempre stato, ed è noto a tutti, il secondo finanziatore di Forza Italia. E ho finanziato per anni Forza Italia, ma ho finanziato per anni anche la Lega e ho finanziato anche... Il secondo perché il primo era lui. Era lui, Silvio Berlusconi, sì. E insieme a Silvio Berlusconi ho fatto l'Università Se Libertà, come le sa, era un suo sogno da molti anni. Forse io ho sbagliato a realizzargliela in 3-4 mesi e a mettergliela così finita sul piatto, perché questo ha fatto nascere un grande odio per chi come noi di Alternativa Popolare è iscritto al Partito Popolare Europeo. Le ricordo che noi quest'anno siamo presenti alle elezioni dopo essere passati dai tribunali e abbiamo dovuto far scrivere a qualche giudice che stranamente il Partito Popolare Europeo non poteva essere mandato a casa, perché in Italia c'è anche questa brutta abitudine di non ricordarci chiaramente che queste sono le elezioni europee. Gran parte delle persone pensa che siano le elezioni inutili, proprio perché sono le elezioni europee. Qualcuno trascura che la finanziaria prima di essere approvata in Italia deve avere un timbro dell'Europa. Però pare che in pochi lo sanno, anche a livello politico mi lasci dire, perché se è vero che molti leader ci sono candidati e poi dopo non vanno in Europa perché pare che l'Italia sia più importante, forse non hanno esattamente capito che oggi nel referendum dell'89, se non sbaglio, abbiamo demandato all'Europa un po' della nostra sovranità, perché sembra che ce l'abbiano rubata. Tutti ci sono scordati, anche i politici attuali, che nell'89 abbiamo fatto un referendum dove il 92% degli italiani ha detto sì, l'Europa vale più di noi. Poi abbiamo rischiato di avere una Costituzione e di avere un unico ministro degli esteri e addirittura un esercito, se non sbaglio, nel 2004. Lei sarebbe favorevole, così la interrompo, ma poi va avanti. Sarebbe favorevole all'esercito europeo? Sì, se abbiamo anche un'ottima base momentaneamente di un esercito italiano, perché io credo che sia arrivato il momento di capire che dobbiamo difenderci o almeno demotivare gli altri a venire da noi. Senta, l'ho interrotta, lei l'ha fatto anche da solo, perché aveva cominciato a dire che sono stato il secondo finanziatore di Forza Italia, poi voleva dire che era passato da altri. Sì, ho finanziato anche la Lega, ho finanziato Fratelli d'Italia, ho finanziato dei candidati del PD, ho finanziato i grillini. Cioè, detto questo, ho finanziato tutti, perché sono un proporzionalista. Detto qua. Senta, no, ma soprattutto, insomma, è una persona biente, evidentemente, perché, immaginando che, no, appunto, siccome la conoscono in tanti ormai sia come sindaco, sia perché è molto focoso e quindi è entrato nelle cronache per alcune intemerate. Diciamo, mi dispiace perché qualcuno pensa che sia solo quella parte. No, no, ma siamo qui, no, no, ma siamo qui. Perché molti sfugge quello che poi è realmente realizzato nella mia vita. Ecco, appunto, io questo, se uno è diventato molto ricco, no, tanto da finanziare le forze politiche, anche se è deducibile, penso. Sì, sì, ma poi ci sono dei limiti, 100 mila euro, poi candidati, fino a che, cioè. E qual è l'attività che l'ha resa così, insomma, benestante? Ma guardi, io ho 19 aziende. Prima di arrivare alla fondazione a fondare... Perché prima diceva dei suoi figli, voleva sapere che aziende erate all'estero, eccetera. Ma guardi, in Inghilterra ho un campus bellissimo nel Kent che è stato finito proprio da poco tempo con un'università di diritto inglese. Ho a Dubai una società che si occupa di condotte dell'aria, ma tutte molto particolari perché tecnologicamente molto avanzate, resistono a 1200 gradi di temperatura, perché fortunatamente oggi l'attività principale è l'Università Niccolò Cusano, dove la Facoltà di Ingegneria brilla, dato che è stata la prima università quest'anno, l'ha stabilito l'Ambur, ad avere la ricerca scientifica nell'ambur di ingegneria elettronica tra le migliori. Lei utilizza quindi i brevetti della stessa università, della Facoltà Ingegneria della sua stessa... Certamente, ma non solo nella parte ingegneristica per quanto riguarda queste tubature, che per esempio posso dirle che normalmente 8 metri di questo tubo pesano 240 chili, i nostri pesano 40 chili, i nostri resistono a 1200 gradi di temperatura, eccetera, eccetera. No, non voglio stare... Poi mettiamo... Passa come Berlusconi... Lo scorrevole, mettiamo lo scorrevole, telefonate a questo numero. No, no, gliel'ho chiesto io ed è interessante, ripeto, perché poi, ripeto, lì lei si sa che è il sindaco di Terni, che è Pocoso, che ha fatto Alternativa Popolare, che gareggia per le europee, però il personaggio Bandecchio evidentemente è più largo. Beh, 2500 stipendi tutti i mesi pagati per le mie aziende, un indotto forse di altri 4-5 mila stipendi, sicuramente aziende collegate. Beh, devo dire che ho un atteggiamento verso il mondo imprenditoriale, forse anche un po' innovativo, insomma. E per cosa l'ha spinta la passione politica? No, non è la passione politica, è la disperazione politica. Lei sembra che negli ultimi 30 anni abbiamo ottenuto dei risultati in questa nazione. Io, fortunatamente per me... Scusi, è il secondo finanziatore, è stato il secondo finanziatore di Forza Italia. E ci ho provato, mi scusi, Mentana, lei ha lavorato per un certo periodo a Canale 5. Come no? Ci ha provato, no. 18 anni. Brava, poi alla fine avrà detto non mi sta bene, una certa cosa è perfetto. Io ho provato perché nella mia indole non volevo fare il politico, non me ne poteva interessare di meno. Guardi che per me andare in giro cercando una crocetta, per me è umiliante, è una cosa umiliante. Sentire tutta una serie di chiacchiere di persone che non sono riuscite mai a mettere a terra un'idea. Perché le idee sono belle, partono da un'idea filosofica, ma poi devono andare a terra, la gente mangia. Quindi io sono orgoglioso di poter pagare degli stipendi, di poter creare dei posti di lavoro, di vedere che i dipendenti che lavorano con me, che poi chiamerei collaboratori, ma non per fare il bravo. Perché senza di loro certe aziende non potrebbero andare avanti. Per me è un orgoglio quando vedo che si comprano la macchina nuova o la casa. Per me la ricchezza è come dire stai bene e sei sano. Cioè non è una malattia e non è nemmeno una cosa misera e non c'è manco da vergognarsene. Io non mi vergogno certamente di quello che ho creato fino ad oggi e di quello che ho fatto. L'Italia però è una nazione che troppo spesso ti porca a vergognarti. E allora è una nazione che crea miseria. E d'altronde, scusi, i nostri stipendi nel 1990 erano i sesti nella media Ocse, dove la media era il nono. Oggi sono i diciottesimi. Cioè noi abbiamo persone che dovrebbero campare un mese con 1200 euro, qualcuno porino, anche con 900 euro. 3 mila, cioè scusi, 3 euro e 80 prendono le guardie giurate che se non fanno 15-16 ore al giorno non possono riuscire a mangiare. Quindi c'è qualche problemuccio. Certo. Allora, e da cosa parte l'idea di una lista europea? Perché queste cose che lei ha elencato stanno soprattutto nella sovranità del Parlamento italiano, semmai, no? In parte, Mentana. Perché l'Europa, della quale noi oggi facciamo parte, ci ha dato per esempio dei soldi del PNRR, ma ce ne parlo da sindaco. Non so più dove fare... Se li ha prestati in gran parte, li dobbiamo restituire, non dimentichiamo. Glielo stavo dicendo, il 45% mi sembra debba essere restituito, ma io non so più dove fare le piste ciclabili. Allora vorrei domandare, l'hanno scelto gli altri? Cosa ci dovevamo fare con questi soldi? O l'abbiamo scelto noi? Perché se no abbiamo sbagliato tutto. Perché noi i ponti non ce li possiamo rifare, le strade non ce li possiamo rifare. Le cose che realmente servono alla città, per esempio, non le possiamo fare. Piste ciclabili, borghi ristrutturati, non si capisce bene per quale motivo, 80, 100, 200 milioni. Cioè stiamo buttando una serie di soldi che poi dovremmo anche ripagare. Quindi io sarei voluto essere in Europa per poter dire scusate. Noi li prendiamo volentieri questi soldi, come io avrei preso i 39 miliardi per quanto riguarda la nostra sanità, perché siamo a pezzi. E mi sarei rimesso a fare il concetto sanitario nuovo per l'Italia, perché l'Italia ha bisogno almeno di 200 ospedali nuovi, veri. Ha bisogno di ospedali di prossimità, ha bisogno di rinvestimento. Oggi un nostro infermiere guadagna 1200 euro, spesso con la partita IVA. Se va in Francia a 3600 euro, e non è che vivere in Francia è così diverso che vivere a Roma, insomma, voglio dire. Se vai a Parigi, vuoi stare in centro, è un discorso, ma se vivi da altre parti, è un altro. Allora, per me l'Italia oggi, i politici italiani, non hanno saputo mettere a terra quella politica che hanno promesso i cittadini. E io da cittadino ad un certo punto ho detto, bene, proverò con un partito che io ho resuscitato, perché Alternativa Popolare esiste da 14 anni, quindi non è il partito mio. Io ho semplicemente resuscitato un partito che era scritto al Partito Popolare Europeo. Quindi ho un'idea equilibrata delle cose. Il Partito Popolare Europeo è il partito principale dell'Europa. Dall'interno di quel partito si possono fare molte cose per l'Italia, perché, come abbiamo ricordato all'inizio, se la legge finanziaria viene timbrata dall'Europa, vuol dire che l'Italia sta a un gradino sotto. Nella legge finanziaria mentana c'è scritto quanti soldi vogliamo spendere per la sanità, c'è scritto quanti soldi vogliamo spendere per l'esercito, quanto per le scuole, quanto per le università, quanto per il benessere degli anziani e il benessere dei giovani. E se la legge finanziaria non è vista dall'Europa, noi non la possiamo deliberare. Allora vuol dire che l'Europa è importantissima, tant'è vero che io, se oggi dovessi essere eletto, andrei in Europa. E guardi, non vado in Europa a fare il comico, vado in Europa a fare quello che ho fatto per tutta la vita. No, perché sa, l'idea che hanno tutti... Il personaggio folcloristico, no? L'idea che tutti hanno di me del personaggio folcloristico mi fa un po' sorridere, perché se avessero fatto nella loro vita un quarto di quello che ho fatto io, forse riderebbero meno. Ora, il problema è, io ho saputo rinunciare a uno stipendio da 4 milioni di euro l'anno. Non sarà tanto, non erano pochi. Oggi prendo 135 mila euro l'anno. Il mio stipendio non lo posso più prendere perché faccio il sindaco. Quanti politici conosce? Lei scusi che hanno rinunciato a 4 milioni di euro per 135 mila euro? Le voglio dire. Certo non andrò in Europa per 270 mila euro o altri 300 mila euro, 200 di spese, perché li guadagnavo in un mese. Allora, i ragionamenti... E oltretutto, guardi, ho interessi in gran parte del mondo. E come lei sa, lo diciamo a tutti, la finanza mi ha sequestrato 20 milioni e mi ha bloccato altre realtà. Non sono né morto di fame e né ho smesso di pagare gli stipendi dei miei dipendenti. E non sono scappato, sto qua. E sto qua fermo perché aspetto di vedere dove avrei dovuto sbagliare. Perché ancora oggi sarò sciocco, ma non l'ho capito. E credo che anche nel sistema finanziario italiano, e qui vale anche l'Europa, a me il fisco amico, lei mi perdonerà. Già il nome mi fa ridere, cioè fisco amico, cioè è una contraddizione in termini. Chiamiamolo fisco giusto, perché il fisco giusto è quello che io trovo in Inghilterra, quello che io trovo in Francia, quello che io trovo in Germania, negli Stati Uniti. Un fisco giusto. Regole certe, lei dice. Regole certe è fondamentale, Mentana. Si immagina se mentre lei stiamo qua a parlare, entra qualcuno e si domanda a lei quanto guadagna di stipendio, io uguale perché siamo qui a fare televisione. Lei è molto restito a parlarne di quanto guadagna. Ma guardi, Mentana, posso dirle una cosa? No, no, ma fa bene. Sono venuto fuori con una panda, sa perché? Perché io ho in garage tre Ferrari, ho in garage una Rolls Royce e mi sono rotto le scatole di vedere un popolo che mi prende in giro, perché vado in giro con la Ferrari o con la Rolls Royce. Allora mi sono preso una panda, a noleggio. Io sono nato molto povero, Mentana. Per andare in bagno quando io ero piccolo dovevo fare 40 metri fuori casa, Mentana. Mio padre faceva il camionista, mia mamma la massaia, per alcuni problemi di famiglia. Io ho mangiato tante sere caffè e latte e una sera, mi ricordo, ho preso un bello schiaffo perché ho detto che mi erano rotto le scatole di mangiare caffè e latte, ma anche con educazione, perché ora lo sto dicendo a babba e a mamma non si risponde mai. E lo schiaffo è stato forte. Io le ricordo queste cose e c'è molta gente, troppa gente oggi in Italia, 6 milioni di persone che mangia caffè e latte. E lei mi domanda come mai voglio andare in Europa. Io ho creato ricchezza fino ad oggi, non sono mai stato ricco come Berlusconi, un patrimonio di 15 miliardi. Il mio è solo di 3, però è un patrimonio. E se mi permette ho qualche pezzetto di carta in tasca che solo restando un pezzetto di carta oggi mi sarebbe pagato 150 milioni di euro e devo andare a lavorare. Io non vedo l'ora andare a lavorare. Mi portate qualche politico serio che sa mettere a terra le idee che ha? Io ho parlato di lavoro e di cittadinanza. Pare che ho parlato, scusi, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, sbaglio? Ma allora mi scusi, se non hai un lavoro non dovresti essere un cittadino italiano. Al contrario, se la Repubblica italiana non ti aiuta a lavorare, non è la Repubblica giusta, non è più fondata sul lavoro. Allora, anziché darti il reddito di cittadinanza, che è discutibile. Perché non pensiamo di dare un lavoro di cittadinanza? Lo sa che a Terni io ho fatto questo con il Comune, con poche persone. È un esempio, è per dire, attenzione, che se si abitua le persone a lavorare, forse le persone hanno voglia di lavorare e si risolve anche il problema del salario minimo. Perché se ti do un lavoro di cittadinanza e tu mi vai a levare l'erba, primo dai aiuti tutti, secondo ci fai vivere tutti molto meglio e terzo tu hai la dignità di avere dei soldi in tasca che ti sei guadagnato. Perfetto. Io l'ho lasciato a parlare perché lei è una novità e quindi era interessante per tutti sentirla parlare. Però adesso qualche domanda, se mi permette, gliela faccio prima che arriviamo alla fine della trasmissione. Allora, primo, in questa lista chi c'è oltre a lei? C'è qualche candidato che lei può indicare come emblematico di cosa è alternativa popolare. Al primo punto c'è Palamara e già c'è un messaggio preciso, guardi. La magistratura ha qualcosa forse che per me non va, ha forse un difetto interno, qualcosa che non va nel rapporto. Colpa della politica sempre, perché la politica si è depotenziata a vantaggio dei dirigenti dello Stato e della magistratura. quindi la colpa non è certa della magistratura. Però oggi ci sono delle situazioni che ci capitano sotto gli occhi tutti i giorni che ci fanno un po' riflettere. Cioè io parlavo con Palamara proprio due giorni fa e mi risottolineava che momentaneamente, a meno che non vengano fuori clamori particolari, Toti sta in galera con un qualcosa che comunque è già scaduto. Comunque sta in galera con qualcosa che potrebbe essere già prescritto. E' datata l'iscrizione del registro di indagati nel 2020. Perfetto. E questo è abbastanza singolare perché in Italia, le dico che un altro dei nostri candidati, non mi ricordo il nome purtroppo perché sono un po' così dimentichino, ma venne arrestato in Montenegro, era un onorevole di Forza Italia, venne arrestato in Montenegro per traffico di armi. È stato nel 2004, è stato portato negli Stati Uniti e condannato dopo tre giorni all'ergastolo. Dopo quattro anni è stato prosciolto totalmente, è stato liberato, è stato rimborsato in milioni, milioni, milioni e milioni di dollari. Conosco invece un altro signore che era consigliere della Calabria, Cherubini si chiama questo signore. Ora trema se ci sta guardando perché lui è passato da 130 chili a 60, sta chiuso in casa e non esce più. Ha fatto 12 anni di galera, non ha nemmeno avuto 8-900 mila euro di rimborso, sta chiuso in casa perché dopo 12 anni gli hanno detto che non aveva fatto niente. Allora mi deve perdonare, chiaramente l'errore ci sta, ma in questa nazione se ne commettono troppi. Poi la concussione, quella vera, tra il giudice, che per me deve avere un rispetto particolare, al quale io pensi non è che toglierei il voto, chiederei la cortesia di non esprimere il suo parere politico, perché è un giudice e a me non mi va ad andare davanti un giudice che mi dice io sono uno che vuole per forza, che ne so, la pace, mentre io voglio mandare le armi in Ucraina. Saremmo già troppo diversi, allora voglio essere giudicato da un mio simile, quindi ai giudici chiederei di non votare, li vorrei come gli angeli. Quell'opinione ce la può avere lo stesso il giudice. Lo so, però sarebbe già bene che non la esprimesse più di tanto. Per quanto riguarda invece pubblico ministero vorrei anche che fossero lontani, io metterei pubblici ministeri a Palermo che chiamerei anche avvocati dell'accusa. Cioè lei è per la separazione delle carriere più spinta possibile. Ma la separazione anche territoriale, guardi, ci vuole un'Italia e mezzo tra i due. Senta, va bene, mi ha detto un nome, un nome e mezzo, mi ha detto perché l'altro... Sì, sì, mi sono scordato l'altro nome, però insomma... Guardi, l'ho detto un nome e mezzo. È il pensiero che conta. No, ma le voglio dire, abbiamo anche tante altre persone che... Sai, io ho cercato persone che lavoravano, il commercialista, l'avvocato, l'imprenditore. Purtroppo in Italia l'imprenditore come me mi guarda e mi ride in faccia e mi dice, caro Stefano, ti sei messo a far politica e ti è cascata addosso il mondo. Quindi io non ci vengo nella tua condizione. Allora ci rivolgiamo sempre a persone di buona volontà che fanno l'avvocato, il commercialista, l'imprenditore, ma forse a un livello più basso. Io non le faccio il nome delle liste. Le liste sono chiare, ma cosa ne può fregare alla persona che c'è un soggetto? Le posso dire però una cosa importante. Quel soggetto è un soggetto che già lavora, perché sennò io non lo candidavo, è un soggetto che ha un'esperienza di anni sulle spalle e sono tutte persone che hanno capito che c'è un partito che all'interno... Hai scelto tutto lei? Tutto lei? No, no, assolutamente no. Stavo arrivando. Noi abbiamo delle correnti interne al nostro partito. Io adoro avere delle correnti. Ho messo e ho stabilito che in minimo dobbiamo avere almeno tre correnti. Ma che vuol dire? Voglio la corrente di sinistra, voglio la corrente di destra, voglio la corrente animalista e voglio la corrente di quello che vuole fare il nudista, perché ho bisogno di confronto e di stimolo. Noi abbiamo necessità quindi di portare avanti un partito che, me lo lasci dire, in parte vorrebbe riassomigliare all'unico partito o al pentapartito che ci ha fatto diventare la quarta, quinta potenza industriale del mondo. Per 45 anni abbiamo avuto tre governi l'anno, un estivo tutti gli anni, eppure siamo sempre andati avanti. Sa qual è l'errore di oggi? È che noi abbiamo destra e sinistra, talmente diverse tra loro e talmente disuguali, che non potranno mai far crescere questa nazione. Un'impresa, un imprenditore, questa televisione, Cairo, che conosco bene, ma ha un'idea precisa, vuole che il suo mezzo televisivo, i suoi giornali, crescano. Si rivolge ai giornalisti migliori, gli lascia una libertà di azione, si mette in una certa condizione e cresce. Questo è l'unico modo che abbiamo. Noi abbiamo persone che ci mettono i tappi in testa. Senta, ultima cosa, perché abbiamo finito il tempo. Pecchiato. No, no, ma io, poi parliamo in privato, se vuole. Ma il tempo è uguale per tutti. No, lo so, sto scherzando. Però quello che le voglio chiedere, mettiamo che, per l'imponderabile disegno della sorte, non ce la fate a perdere il 4%. Noi pensiamo di non farcela. Vabbè, ma non lo dica così. No, 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 glielo voglio dire. Io voglio invece un elettorato molto talebano. Io so che il nostro elettore ci andrà a votare con la consapevolezza che noi siamo emergenti, siamo nati. Io ho già vinto. Il fatto stesso di essere presente in queste elezioni, dieci mesi fa, questo partito non esisteva. Cioè esisteva a 14 anni? Sì, esisteva, ma non esisteva. Ma non esisteva. Oggi siamo presenti. E la prossima tappa? 40% fra tre anni e quattro mesi, perché mi deve perdonare. Con tutti i presidenti del Consiglio che ho visto fino ad oggi, credo che noi siamo in condizione di migliorare. Sta aspettando il nuovo miracolo italiano, ho capito? Grazie a Stefano Bandecchi. Finiamo qui, ma noi ci vediamo tra poco, perché vi dico cosa c'è domani con una sorpresa. Grazie a Stefano Bandecchi. Grazie a Stefano. Grazie.